Assessore Magliani, nel Consiglio Comunale di questa mattina c'è stato spazio anche per il caso, il giallo dell'RSA Bello Sguardo, dove una signora è deceduta martedì scorso, secondo quello che ci è stato raccontato da un parente, e la famiglia è stata avvertita solamente quattro giorni dopo. Lo ha fatto il Comune, ha avvertito il Comune appunto i familiari, non l'ha fatto l'RSA perché non aveva i contatti. Ci racconta cosa è successo? Io di giallo, insomma, non so se si possa parlare di questo. Io posso dire soltanto che intanto condoglianza alla famiglia perché comunque è venuta a mancare una persona e che è sempre un grande dispiacere. Posso dire che sabato mattina mi trovavo in studio per motivi personali di lavoro e sono stato contattato dal sindaco perché egli stesso a sua volta era stato contattato dalla ASL per questo decesso. e quindi sono stato interessato come assessore ai servizi cimiteriali perché inizialmente si paventava la possibilità di una attività necroscopica a carico del Comune di Civitavecchia e quindi ho dovuto sensibilizzare di sabato mattina la funzionaria dei servizi sociali, la dottoressa Coccetti, la quale reperite le generalità tramite la ASL della persona venuta a mancare rappresentava il fatto che la persona, benché sotto tutela, ma non era in stato di indigenza. E quindi laddove c'è uno stato di indigenza riconosciuto il Comune deve provvedere alle spese associate all'obitorio e quindi al funerale e anche alla tumulazione della persona venuta a mancare. In questo caso probabilmente, dico probabilmente perché questi sono passaggi che dovrebbe aver fatto l'ufficio servizi sociali, nell'accertarsi del mancato stato di indigenza di questa persona venuta a mancare potrebbero aver contattato i tutori chi ha la tutela di questa persona deceduta e quindi il meccanismo per cui si è attivato il Comune è un meccanismo del tutto incidentale, del tutto ininfluente rispetto a quelle che sono le attività che legano l'ospite della RSA e quindi sul perché la RSA non si è riuscita a reperire il tutore, i parenti o chi comunque poteva attivarsi questo a noi non è dato sapere, così come non è dato sapere il perché di questa tempistica sappiamo solo che abbiamo svolto un'attività perché ci è stato chiesto di associare all'obitorio e di provvedere a queste attività che ho già spiegato. Quindi diciamo che il Comune ha svolto un ruolo del tutto eventuale che non gli compete e rispetto a quello che poi è successo in questi tre o quattro giorni che obiettivamente desta perplessità, eventualmente l'amministrazione, ma ripeto questo nell'ambito dei buoni rapporti fra istituzioni, eventualmente il Sindaco potrà valutare di fare ulteriori approfondimenti però ci tenevamo a precisare che il ruolo dell'amministrazione è stato del tutto eventuale e sollecitato dalla stessa ASL rispetto a qualcosa che si pensava si potesse fare ma in realtà non era così. Il Sindaco può pensare di chiedere ulteriori approfondimenti per verificare quanto è avvenuto nell'RSA qualora ovviamente la storia avesse un riscontro? Innanzitutto io credo che se c'è un'attività in essere da parte degli inquirenti, da parte della magistratura sicuramente l'amministrazione non si rimetterà a quelle che sono le attività di indagine quindi se c'è un'indagine in corso, se è stata presentata una denuncia noi sicuramente attenderemo fiduciosi gli sviluppi delle attività poi per quanto riguarda un eventuale passaggio da parte del Sindaco ripeto nell'ambito dei buoni rapporti e della collaborazione fra istituzioni sicuramente il Sindaco valuterà se è opportuno approfondire ma tenuto conto che c'è un'indagine in corso sappiamo insomma se c'è un'indagine in corso confidiamo che nei prossimi giorni magari possa essere già chiarito qualche aspetto legato a questa vicenda che comunque desta delle preoccupazioni ecco questo sì